si scoprono le altarine niente subito ad adattitare le persone ma è tornato sto bug primi beam verso muovetevi nella vostra posizione vedete che fanno i cerchiettini bianchi devi condividerli con altre 3-4 persone occhio i melee state sul viola nico vieni in mezzo ai tank separati un atto prossimi raggi aiutate ascalon via 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 a sinistra allora ma silenzio un attimo chi è targettato dalle frecce i ranger vanno a sinistra i melee vanno verso il marker blu che è dietro ai tank pronti correre via verso l'entrata dopo le frecce fanno quelle con i cerchi mamma mia ragazzi che succede indietro fa le frecce ancora tra due secondi c'è un trailer morto non c'è due minuti parte il resto fa la Plegico vieni qua con i tank aspetta forse ce l'ho io il resto no due minuti è sciarato nel raid tre c'è stup cosa ci fai là in fondo stai sulla stella ok range deve andare avanti per sciarare perchè non basta separati aiutate sideline via le frecce separati correre in fondo la stanza aiutare quelle nei cerchiolini c'è stessa nella chiusura sta nella chiusura fa le frecce occhio 20 secondi ai batter su Tato? su ruba bambini su ruba bambini ruba bambini ok ecco fatti io ci credo fa un piacere frecce scusate sono da questa parte via 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 K c'è tutti i frecce quelli si dice per terra ero 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 ultimo ho cercato di evitare Sizen vieni sui tank ero già messa a mano in partire vediamo una mano vieni a darmi una mano con Sizen Tommy frecce via 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 C'è un po' separato Trecce E' un lato Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.